PEGI 18 Lady Maru Perché sei tornato? Cosa c'era nelle tue vis... Molto presto, l'oscuro signore ed il suo esercito marceranno su Mordor Ma un grande potere potrà essere risvegliato per impedire che accada Ma come posso spezzare la maledizione? Distruggi la mano nera Come? Il tuo potere genera seguaci che lo vogliano o meno Trova un capo degli orchi, trasformalo in un comandante e tutti i suoi soldati saranno tuoi Un'armata di orchi Ti hai ancora detto cosa vuoi in cambio? Solo che tu capisca di cosa sei capace E dove dovrò condurre questo mio esercito? Te lo mostrerò